Salve a tutti gente! Allora, intanto scusate i miei capelli super indecentissimi, ma essendo uscita dalla doccia poco fa, purtroppo questo è il risultato, infatti adesso sto aspettando a Jessica che mi venga a fare la piastra Siccome ne sono state molto bene in questi giorni, come si sa che è la mia voce orribile, non ho più registrato vlogmas né niente E quindi ho deciso di farne uno oggi, visto che andiamo a vedere Frozen e mentre la Jessica mi farà la piasta vedremo anche un film natalizio Quindi ho detto perché non fare un vlogmasso, visto che è un'era che non ne faccio uno E volevo anche mostrarvi come vuole dato la camera, perché l'ho fatta molto christmassy e anche come è uscito fuori l'albero di Natale effettivamente Perché dal video non l'avete più visto, quindi vi faccio un mini room tour e tour dell'entrata Allora, come vedete ho messo tutte le lucine sopra dello studio, ovviamente E ho fatto anche questo mini albero, versione Kpop Sì, ho fatto molto a random, però mi è piaciuto come è uscito E poi vabbè le luci solite che si collegano al letto, quindi yes, è venuto fuori questa cosa assai figa secondo me Ora vi mostro anche invece il corridoio, eccoci qua Sta lasciando le spine attaccate Questo è l'albero comunque con i pochissimi regali che ci sono sotto Che è uscito fuori Bene, adesso continuo a guardarmi i fantastici video di Youtube Stavo volando i video Sì, mi è partita strana, ma in realtà stavo volando i video di Chiara Paradisi Vabbè, stavo volando i Vlogmas, quindi ok E mentre aspetto appunto la Jessica che arrivi E nel frattempo salutate l'Ariel che sta dormendo Ciao Ciao amore Ciao 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 Sono le nove ormai Così belli ma vabbè Fortuna che mentre abbiamo cenato E fatto la piasta Perché se avessi dovuto seguirlo al 100% Probabilmente mi sarei innoiata Avrei schifato tutte le scene Vabbè insomma Niente adesso stiamo andando Stiamo andando al cinema E il diavolo filter 20 minuti Quindi speriamo di farcela Arriveremo un po' all'ultimo ma non importa E non penso ci sarà tanta gente Essendo mercoledì sera A parte che il fiume deve essere uscito È già uscito da due settimane fa Esatto quindi La gente avrebbe già dovuto vederla I bambini vanno subito E noi siamo le bambine che andrà Sì insomma Come vi ho detto all'inizio del vlog Andiamo a vedere Frozen 2 Quindi yes Sono curiosa perché il primo Non ci è piaciuto tantissimo Ovviamente Sì con il rosso vabbè Il primo ci è piaciuto tantissimo Quindi siamo curiosi di dare il secondo Sì con il rosso vabbè Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.